buongiorno buona giornata buon tutto a chi è capitato in questo momento sulle onde fanchi e ha fatto molto bene perché da milano a catania è un attimo con i sogni con la volontà e volendo anche con la rete che ci aiuta in questo caso e con noi con me c'è brando madonia ciao ciao tutti ciao ciao a milano oggi piove a dirotto com'è la situazione a catania mi dispiace perché qua c'è il sole per fortuna tanto per cambiare esatto una novità siciliana mi fa veramente molto piacere brando io vorrei chiarire subito che sono fan a prescindere dal cognome e che sono rimasta totalmente rapita dai pesci non invecchiano mai cioè se questo è diciamo il biglietto da visita di brando madonia che ha deciso di iniziare una carriera da solista secondo me ci siamo queste parole mi danno una carica enorme perché ovviamente primo brano da solista quindi per me è un inizio una nuova avventura dopo tanta tanta lavoro tanta passione quindi per me ovviamente sentire queste cose mi riempie di gioia grazie veramente io non so se faccio testo non so se l'orecchio commerciale ma sicuramente mi faccio rapire dal suono delle parole oltre che dai suoni e quindi sicuramente una canzone come questa è evocativa al massimo e credo anche che fosse quello che tu volevi ottenere no cioè proprio prendere come una polaroid una canzone esattamente infatti allora il brano parla appunto di come se fosse un viaggio come se fosse un viaggio raccontato da immagini oniriche diciamo che apparentemente possono sembrare legate fra di loro con queste immagini ma in realtà non è non è così perché l'obiettivo diciamo finale è quello di costruire un futuro attraverso i ricordi attraverso anche un sogno ricordo del passato poter immaginare costruire un futuro per anche se la solitudine sicuramente è la sensazione che si si percepisce di più in questo brano ma c'è questo risvolto positivo perché quella della costruzione appunto di un futuro perché quello che noto io ormai che magari in questa società si tende a dimenticare tante cose spesso il passato ormai siamo bombardati da notizie immagini che arrivano quotidianamente alla velocità della luce dopo qualche secondo ne abbiamo un'altra quindi ci siamo già dimenticato quella di prima praticamente e questo invece secondo me è importante invece ricordare il proprio passato e costruire la storia con le proprie le immagini appunto quello che tento di raccontare a te verso la canzone con le immagini del passato e costruire appunto un futuro quindi tu sei d'accordo brando che prima di questa esperienza sicuramente voglio dire per la maggior parte dei versi negativa dell'emergenza sanitaria noi forse andavamo un po troppo in fretta ma è quello sicuramente sì andavamo troppo in fretta perché appunto non riusciamo più a concentrarci su sulle cose realmente importanti c'è sulla propria strada le proprie passioni il proprio lavoro i propri effetti c'è era diventato tutto un bombardamento di notizie uno dopo l'altro io spero tra virgolette ma me compreso ovviamente c'è tutti che questo questo brutto momento magari non lo so possa aiutarci a riflettere un minimo e godere delle cose realmente belle c'è significative anche senti ci sono tracce di noi sui muri di un'altra realtà questa frase mi ha colpito particolarmente è un'altra realtà perché il sogno è un'altra realtà o è un'altra realtà perché di un altro quando hai scritto questa frase no è proprio esatto è proprio come dicevi c'è ovvero le tracce di noi sono esattamente i ricordi i nostri pensieri che abbiamo lasciato e ma li abbiamo sempre avuti e ci sono sempre se li hai vuol dire che esistono e per questo dico di non dimenticare e di non vivere sempre solamente l'istante sono esattamente queste le tracce di noi che dobbiamo rivivere per andare appunto il futuro e perché non sia una vecchia formalità ma esattamente è l'opportunità quindi che tu vuoi dalla musica dalla tua musica oggi ma immagino anche dalla tua vita oggi esatto sì sì l'obiettivo è questo cioè non solo musicale ma proprio parlo della vita cioè in generale e diciamo questa è trasportata in musica hai già pronto immagino pronte altre storie che tu racconterai perché questo è un singolo ma immagino tu abbia in mente un disco un album per come dire raccontare la tua avventura nuova da solista sì esatto questo appunto come dicevo il primo singolo di questo progetto e sono strafelice di aver lavorato con con la Narciso Records che mi ha permesso appunto che ha creduto in questo lavoro che ha creduto in questo progetto e quindi nelle mie canzoni per me è una gioia immensa quindi ringrazio tutti quelli che lavorano per Narciso Records che hanno avuto in me e infatti sì andremo avanti usciranno altre canzoni e poi uscirà appunto l'album ancora non so date però piano piano c'è l'obiettivo ovviamente quello c'è ci sono tanti altri brani diciamo in fase di lavorazione e ci siamo ci siamo hai citato Narciso Records chi conosce insomma Carmen Consoli non farà fatica a capire come mai Narciso parole di burro aggiungiamo bisogno più indicazioni e devo dire che a naso l'etichetta di Carmen mi sembra un po' un'oasi protetta no cioè la decisione di resistere in magari in un mare di offerte anche diverse no di proteggere un certo tipo di qualità ma anche un certo tipo di narrativa diversa da quella di massa sì poi guarda soprattutto in questi in questo periodo degli ultimi anni diciamo che sappiamo che la discografia non è più come quella di una volta tutto più difficile e ovviamente molte case discografiche tendono diciamo hanno paura a investire sugli emergenti e ormai il mondo è cambiato tutto il modo di investire di produrre in maniera discografica con la Narciso Records con Carmen io veramente per me è stata una gioia immensa proprio vecchio stile ho fatto ascoltare i miei provini le sono piaciuti e abbiamo lavorato tanti insieme poi lei musicalmente inutile dirlo non sono io sicuramente a dire com'è meravigliosa e come poi come persona come c'è come lavora fantastico fantastico proprio bellissimo tu suoni la chitarra giusto Bramico? con la chitarra le tue canzoni ok e no anche perché anche in questo probabilmente c'è un feeling no musicale nel senso che anche Carmen ha sempre pensato e inciso con la chitarra quasi come fosse una parte no del proprio del suo coro un'estensione esatto esattamente senti tu come ti trovi come ti trovavi e come pensi che ti troverai nell'ambito musicale odierno cioè oggi la musica almeno insomma quella che ci raccontano i social o la comunicazione veloce è una musica piuttosto come dire che soprattutto in una fase giovanile si orientano verso la trap verso una dialettica un po' diversa dalla tua ti trovi un oaggio comunque pensi che sarà diverso quando usciremo da qui guarda io non lo so sinceramente non ho mai pensato a questo perché ho sempre fatto la la mia musica nel senso come mi viene in maniera naturale questo è l'obiettivo è il mio sogno è quello appunto di poter raggiungere un pubblico avere un pubblico che si rispecchia appunto nelle mie canzoni nella mia musica è ovvio che mi auguro che siano più persone possibili perché il piacere per un modicista è quello di far ascoltare la propria musica avere un riscontro dei pensieri cioè quello fa veramente piacere quando senti qualcuno che dice sai ho ascoltato la canzone e ho provato questo e quest'altro bello e per me è una gioia infinita infinita quindi non lo so c'è magari il pubblico verrà da sé non so chi apprezzerà il mio mondo la mia musica e si avvicinerà però probabilmente insomma ti hanno insegnato il coraggio di seguire la propria la propria volontà la propria musica il proprio talento insomma senza adattarsi no anche si è giusto prova almeno io la vedo così è giusto provarci ma in tutti gli ambiti cioè ovunque in tutti gli ambiti è giusto provarci e tentare vedere come vanno le cose perché uno prova a fare quello che che ama ovviamente la vita poi non si sa mai come vanno le cose però sicuramente provare necessario i peci non invecchiano mai è il nuovo brano di brando madonia tra l'altro un video delizioso con tutti questi disegni infantili che si susseguono come se fosse un cartone animato fatto a mano infatti si sposa almeno secondo me si sposa benissimo appunto con il mondo appunto della canzone molto delicato molto dolce in quasi innocente diciamo si si rimane la poesia appunto il sogno no che vanno a interferire con la realtà e l'ultima domanda e non posso non fartela perché visto che tu hai fatto dei featuring uno anche appunto con luca madonia e una volta succede volevo ero curiosa di capire se gli chiederai un featuring per il tuo disco se ti interessa guarda non ci ho pensato sinceramente ho fatto questo featuring con mio padre perché lui ha fatto un disco tutto di duetti che è uscito qualche mese fa se non sbaglio e io non avevo mai fatto nulla con mio padre i cantati insieme quindi a quel punto lui mi ha detto senti ma lo giusto se non ricordo male come scusa avevi suonato sì suonato sì però una canzone insieme proprio che esce con luca madonia mai e allora ha fatto questo disco me l'ha chiesto ho detto ma certo che mi va comunque sempre una ricorda una cosa bella che rimarrà comunque mi fa strapiacere però insomma non hai ancora non ci sono non lo so sinceramente non ci ho pensato ancora non ho idea però mai dire mai figurati i pesci non invecchiano mai appunto mai dire mai brandomonia grazie ma grazie a te e alla prossima grazie mille grazie